Grazie, vogliamo ringraziare prima di tutto il Comune che ci ha dato la disponibilità di luoghi prestigiosi per andare a guidare le nostre manifestazioni, ringraziamo anche naturalmente gli uffizi. Sì, io volevo veramente ringraziare la mia presenza a me che sostituisce il sindaco per essere presente, sta a dimostrare come per noi davvero il lavoro prezioso e il svolto di legge del luogo sia un lavoro territorio e credetemi non è di circostanza ma lo voglio ricordare.